Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati al mio canale, siamo qui quest'oggi per fare un nuovo video specificatamente un video su un unboxing della Playstation 4 la mia vecchia Playstation 4 era vecchia, l'ho mandata in pensione ed era solo 500GB di memoria ed era troppo poco ormai, non mi leggeva nemmeno più i dischi ho deciso di comprare la Playstation Slim ok ragazzi, come vedete c'è tutto interno, ho deciso di prendere due joystick visto che i joystick ogni settimana se ne rompe uno e i giochi tanto è meglio deciderli per sé invece di comprare quelli dentro i pacchi e ok, iniziamo ok ragazzi, la Playstation ha un tera che è il doppio di 500GB ok, vedete, un tera all'interno, due joystick spacchettiamo vorrei non rompere la scatola perché poi capirete chi mi segue poi dopo capirà il perché ok ragazzi, iniziamo questa è la Playstation Slim vuoi vedere un design molto più bello molto più piccolo confronto a quell'altro, non c'è storia proprio non c'è storia vedete, dietro c'è anche triangolo, rotondo, cerchio e quadrato che poi alla fine se lo andiamo a mettere così sono come se fossero dei piccoli piedini ok, andiamo a vedere tutto quello che c'è dentro che è quello che poi mi interessa soprattutto i joystick mi interessano ok, vedete un joystick che non si scherta ah, profuma di nuovo raga quanto è bello è quello leggero secondo joystick questo unboxing pre natalizio perché tanto non mannava di aspettare fino a 25 ma che senso c'è ok poi ci hanno dato un solo caricatore perché come sapete i caricatori costano bensì 12 euro tendo a sottolinearlo mezza cuffietta by by Sony che questa già domani già è rotta classico caricatore ok quello dell'energia che va attaccato e poi il caricatore HDMI ok questa slim non cambia niente da quell'altra solo che ha il doppio di memoria che è più piccola e che costa meno della Playstation Pro soprattutto quindi ragazzi ricordatevi di lasciare tanti like se questo unboxing vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate tanti commenti un saluto e ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti